Scusa, ma io ti avevo detto che tu dovevi spendere per costi operativi 17 milioni di euro. Nel 2021 ne hai spesi 27, ce ne sono 9 milioni di euro in più. Non lo potevi fare. Cioè, il Russo che cosa sta facendo? Praticamente sta distraendo le somme destinate per gli investimenti in somme destinate per i costi operativi. E quindi sul personale, sull'esternalizzazione, eccetera, eccetera, eccetera. E questo avrà un effetto negativo, perché laddove questi costi non verranno più riconosciuti dall'ARERA, l'ARERA abbasserà la tariffa, perché dirà il Russo, caro Russo, io ti avevo dato un compito, ti avevo detto di gestire il servizio l'idea integrato con questi parametri. Tu non lo stai facendo. Pertanto occorre restituire i soldi ai cittadini. Quindi ci sarà un abbassamento tariffario, perché tu non hai fatto gli investimenti previsti nel piano, e il Russo poi con l'abbassamento tariffario riuscirà a mandare avanti l'azienda? E che cosa accadrà dopo? Ecco, è per questo che molti hanno visto questo mio intervento come un attacco, un attacco forse anche politico al Consiglio d'Amministrazione. La realtà voleva essere semplicemente un monito, un intervento costruttivo, perché l'andamento della gestione del Consiglio d'Amministrazione deve però veramente cambiare, altrimenti, come diceva il sindaco, l'affidamento in house noi ce lo possiamo dimenticare. Vedete, in assemblea tutti i sindaci hanno detto, convintamente, io su questo sono perfettamente d'accordo, tutti quanti vogliamo mantenere la gestione pubblica dell'azienda, ma per avere in futuro l'affidamento in house ce lo dobbiamo meritare. E se andiamo con questi dati di bilancio, assolutamente non ce lo arriveranno. E questo noi lo dobbiamo aiutare. E per questo che il voto contrario del Comune di Gortino abbiamo proprio questo scopo, cioè sollecitare un cambio proprio nella gestione che deve cercare il più possibile di avvicinarsi a quei parametri, a quei parametri indicati dal piano d'ambito che ci consenterà di dire alla REA, guarda, comunque non sono lontano da quei dati e quindi posso continuare a gestire in house i servizi. Peraltro nel piano tariffario che ha determinato quindi la tariffa si prevedono addirittura ricavi per 43 milioni di euro, mentre il soggetto gestore ne ricava 54. Questo che cosa significa? Che mentre il piano tariffario, quando è stato fatto, prevedeva un tipo di ricavo ricchi, in realtà, avendo dei ricavi superiori, il soggetto gestore dirà scusa, ma io pensavo che tu ricavassi 43 milioni di euro nei ricavi 54. Che ci fai con quei soldi? Come li hai impiegati? Ora, tutte queste cose, tutte queste differenze, divergenze, prima o poi questi nodi verranno a pettine. E in questo periodo che manca prima della scadenza della gestione, assolutamente dobbiamo fare degli sforzi per cercare di ovviamente arrivare a, non dico proprio avere i dati coincidenti con quelli del piano, ma almeno ad avvicinarci. In sostanza non si può assumere personale ed esternalizzare i servizi. Cioè abbiamo esternalizzato le letture, il call center, il recupero crediti, l'ufficio legale interno, tutte queste cose non si possono fare, due sono le sceglie. O si assume e quindi si incorporano i servizi da fare, quindi si fanno internamente tutti i servizi, ma non si può assumere personale ed esternalizzare i servizi. Questo vi sembra ovviamente la base per avere una gestione efficiente ed economica. Poi consentitemi di replicare ad alcuni interventi che avevano fatto alcuni sindaci ed ad alcuni articoli di stampa, dove in sostanza mi si addebitava un mancato controllo del soggetto del ruzzo quando io ero presidente del lato. E quindi mi si accusava in sostanza che in un certo senso i 100 milioni di euro di debiti che attualmente ha il soggetto gestore era di peso anche da un omesso controllo, era sottointeso questo da parte del lato da me presieduto. Ora questa notizia è destituita proprio di ogni fondamento, ma per una semplice ragione che quando il ruzzo aveva 100 milioni di euro io non facevo più il presidente da 6-7 anni almeno, perché io ho fatto presidente del lato tra il 2004 e il 2006 e quindi certamente non posso essere, a me non può essere addebitata un omesso controllo sul soggetto gestore. Peraltro la mia presidenza, se vi ricordate, guardate un attimino i vostri archivi, sicuramente ricorderete che sono stato il primo a fare la revisione tariffale, proprio a fare quel discorso che adesso parla la vera, abbassando la tariffa perché il soggetto gestore non aveva fatto gli investimenti previsti nel piano. E poi si è anche caratterizzata, perché vi ricorderete che il sistema credottistico era composto da tre società e allora si fece la liquidazione dell'Spt e l'incorporazione delle sue società arrivando a semplificare notevolmente il sistema credottistico. Grazie Giancarlo.